Grandissime novità in questo caldissimo pomeriggio di luglio qui a Milano perché alle 16 davanti alla sede di Viale della Liberazione è arrivato Raffaele Di Gennaro che nella prossima stagione coprirà i pali della porta nera azzurra come terzo portiere in sede per mettere a posto gli ultimi dettagli. Sarà un contratto annuale con opzione di riscatto e giocatore che domani effetturà l'iter di visite mediche all'Humanitas di Rozzano e successivamente l'idonità sportiva al CONI. Non si sa ancora se passerà in sede per la firma perché potrebbe averla messa già questo pomeriggio ma la certezza è che appunto domani svolgerà tutto l'iter di visite mediche. Poi nel tardo pomeriggio il nostro spostamento all'inate normale e non privato come siamo abituati perché Iambisec ha mosso i primi passi qui in Italia, qui a Milano, dove anche lui tra qualche giorno svolgerà tutto l'iter di visite mediche con l'Humanitas di Rozzano e l'idonità sportiva al CONI. Ma per Iambisec c'è ancora da aspettare perché ci sono formule sul contratto da definire con l'Inter che vuole pagare i 7 milioni di clausola in maniera dilatata mentre Larus attende e cerca di capire una soluzione migliore. Ma Iambisec sarà a tutti gli effetti nei prossimi giorni un nuovo giocatore dell'Inter.